Oggi è il 2 di novembre, il giorno in cui si celebra il ricordo dei nostri defunti, dei nostri morti e dobbiamo dire che in queste ore si vede quanta gente entra ed esce dal cimitero per deporre dei fiori sulle tombe dei propri cari. È una tradizione che un po' si è persa nel nostro territorio, dobbiamo dire che una volta era un obbligo morale quello di venire costantemente a salutare i propri morti e a lasciare un fiore sulle tombe. Oggi probabilmente è un fatto che riguarda la giornata dei morti, il periodo delle feste, quei momenti in cui si ha voglia di ricordare la storia dei propri cari e la perdita dei propri cari. Un momento di cristianità che ci riporta a quello che lo stesso Vangelo ci insegna, ricordare e onorare i nostri morti, non solo i nostri ma anche quelli che magari non hanno più nessuno che depone dei fiori o che non hanno più nessuno che prega per loro. E soprattutto in una giornata come questa non possiamo dimenticare le anime del purgatorio. Quindi dobbiamo dire con molta umiltà ma soprattutto con tanta tristezza nel cuore questo giorno è un giorno in cui nel cuore si riapre la ferita, la ferita della perdita. E quando parliamo di perdite è chiaro che dobbiamo ragionare su quello che succede nella vita di tante persone e io lo dedico ancora una volta con tutto il cuore alle mamme e ai papà che hanno perso un figlio.